Io forse so a raollo antica, essere all'antica vuol dire che un partito politico dice su un tema di rilevanza nazionale, il tema più importante che oggi ci sia, cioè il Green Pass, un partito dice una cosa e la dice che sia il suo ministro che la dice oppure che siano i parlamentari, che siano... Penso che questo sia la normalità. La Lega oggi in Parlamento ha votato contro il Green Pass insieme a Fratelli d'Italia in una giornata in cui le forze dell'ordine e tutto il sistema ha garantito il fatto che l'applicazione della regola sul Green Pass che la Lega aveva votato in Consiglio dei Ministri potesse funzionare. Una cosa di questo genere è inaccettabile e non c'è propaganda politica qui. Quindi qui fa parte della logica della responsabilità e della serietà nel senso che è incompatibile con lo stare al governo votare contro il Green Pass che il governo ha approvato e che il governo sta cercando di portare avanti. Tra l'altro proprio nella giornata di oggi.